Si è da poco spento l'eco dei canti sulla passeggiata che già la cittadella del Carnevale torna a brulicare di attività per l'edizione 2022 che si riprende le date consuete di inizio primavera dopo l'eccezione autunnale. Nuovi inizi quindi alla soglia del 150esimo anno. Prima viene svelata al pubblico la nuova locandina del Carnevale che torna al classico, poi viene presentata la nuova ondina per l'anno prossimo. È un'edizione speciale prima dei 150 anni che saranno nel 23. Quest'anno siamo tornati alla tradizione con un bonetto inedito disegnato tra il 34 e il 35, molto sexy, molto sensuale ma anche molto allegro. Insomma un Carnevale che si spera possa essere veramente quello della ripartenza, così gli organizzatori puntano a una capienza aumentata che possa far tornare a riempirsi le strade di Viareggio. Siamo preparati questa volta, parliamo di budget per il 2022, ci siamo preparati al 75% degli ingressi e quindi una media percorso di 61.000 spettatori. È serata di premi per i carri che vanno in soffitta e soprattutto la prima occhiata ai bozzetti dei carri che fra qualche mese prenderanno vita per animare il Carnevale che sarà. Sono bellissimi, con una marea di personaggi importanti che verranno rappresentati lungo il corso, tantissima allegria e davvero la voglia di segnare il ritorno alla normalità. Società politica, società cultura, abbiamo tanti bei temi.